Un coro arriva da Via Palestro e dalle strade vicine fino al centro dopo l'ennesima aggressione a un cittadino di 57 anni che stava andando al lavoro avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì. Abbiamo paura. L'ultimo episodio ha visto protagonisti due giovani, probabilmente minorenni, che hanno intimato all'uomo di consegnare loro il marsupio che conteneva, oltre al denaro, anche il cellulare e altri effetti personali. Davanti al suo rifiuto sono scattati spintoni, calci e pugni e l'uomo si è ritrovato a terra con lesioni al volto e alle braccia. I residenti sono ormai esasperati. Direi più controlli, passare in giro con le auto della polizia. Fare più controlli. Però controlli mi ricordo quando ero ragazzino ce n'erano parecchi, adesso molto molto meno, ma molto meno, per cui bisogna incentivarli, specialmente di notte. Penso che forse ci siano meno controlli da parte effettivamente delle forze dell'ordine pubblico in generale, sia per mancanza di personale che per altre motivazioni. Quindi la sera tardi c'è un po' di timore ad uscire o comunque ad andare effettivamente in giro. Non si vede manco un vigile, manco nessuno in centro, non si vede mai niente. E i delinquenti, eh? Però anche le famiglie dietro dovrebbero anche intervenire un po' di più. La strada, molto frequentata nel periodo scolastico per la presenza di numerosi istituti, vicino ai quali si è verificata l'ultima aggressione, appartiene al quartiere centro, già teatro recentemente, di altre aggressioni e furti spesso da parte di persone giovani. Il comitato lancia dunque l'ennesimo allarme per la situazione sempre più preoccupante. Come comitato, non so ormai quante volte, abbiamo sollecitato i prefetti e questori. A questo punto c'è paura. È inutile, continuiamo a chiedere, ci vogliono più controlli. C'è tanta gente, tanti ragazzi che vengono in città, giovani, li passano la giornata in città fino a tarda ora, sono in gruppo, fanno quello che vogliono e purtroppo non c'è sorveglianza. Crescono dunque paura e preoccupazione per le difficili situazioni che si stanno verificando in zone diverse della città, sia vicine, sia lontane dal centro storico.